Ciao a tutti! Oggi prepareremo il budino alla vaniglia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti più 3 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono latte, panna, tuorli d'uovo, zucchero, stecca di vaniglia, gocce di essenza di vaniglia e gelatina ammollata in acqua fredda. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, la bacca di vaniglia e la facciamo cuocere per 9 minuti a 90 gradi a velocità 1. Togliamo la bacca di vaniglia dal boccale. Abbiamo tolto la bacca di vaniglia, adesso aggiungiamo lo zucchero, i tuorli, la panna e l'essenza di vaniglia. e facciamo cuocere per 8 minuti a 90 gradi a velocità 3. Aggiungiamo i fogli di gelatina ben strizzati ed amalgamare per 50 secondi a velocità 3. Trasferire il composto in stampini monoporzione o in uno stampo per budino. Riporre in frigo per 3-4 ore. Trascorso il tempo il budino è pronto, serviamolo. Budino alla vaniglia. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!